Allora, sono una volontaria dell'Associazione Figli in Famiglia. In realtà è da marzo che noi prepariamo le spese per le famiglie che non sono solo del nostro quartiere, ma anche di tutti quelli che ci sono nelle zone, fino a Piazza Gauro, perché ci sono molte famiglie che hanno chiesto aiuto a noi. Cerchiamo, insomma, con l'aiuto della Providenza, di potermi andare quanto più possibile alle famiglie in difficoltà. Ci siamo messi in prima linea, con la paura soprattutto non solo di poter contagiarci o di altro, ma soprattutto con la paura che tutto questo un giorno si possa fermare e che molte famiglie resterebbero senza nulla, tra l'atto e omogenizzati e tutto quello pacchi di pannolini che servono per i bimbi. Quindi, se è possibile, aiutateci a continuare affinché la speranza non possa mai mancare nei cuori di tutti quelli che noi doniamo. Come vedete, ci sono tantissime spese qui, siamo arrivati di quasi a 150 oggi, ma noi a marzo siamo arrivati a più di 300 famiglie. Sicuramente questo Natale sarà molto, molto povero, per cui aumenteranno sempre di più. Quindi, se è possibile, vi chiedo in nome di Gesù di aiutarci, perché siamo tutti figli e responsabili dei nostri fratelli. Grazie.